Se ce li hai 5 minuti, fatte le due maffine allo yogurt, alla fine non basta veramente niente, ci vogliono le uova, l'olio, due vasette di yogurt, lo zucchero, la farina messa poco a poco e la frumina. Una volta che hai mescolato tutto e hai fatto bello gonfiare tutto l'impasto, non ti resta che prendere e mettere tutto quanto dentro i pirottini, dentro una classica teglia da maffine. Fatto questo una decina di minuti in forno e che te lo dico a fare, certo non saranno venuti tutti uguali ma saranno tutti buonissimi e morbidissimi, mettici i zuccherini che ti piacciono di più e fattene una mangiata bella di pomeriggio, tranquilla, seduta al tavolino, un bicchiere di tè o anche una birretta che non guasta mai e gnam!